Capodanno 2017 in piazza a Gela e ci sarà musica, divertimento e naturalmente spazio per tutti. Sì, per Capodanno venite a Gela, questo è il nostro motto, perché abbiamo pensato a questo evento per evitare che i nostri giovani andassero, o per meglio mettere nelle condizioni i giovani che non vogliono andare, che non hanno la possibilità e che comunque in ogni caso vogliono fare stare tranquille le famiglie, di rimanere a Gela e comunque divertirsi, avendo l'opportunità anche di poter ballare all'aperto, in piazza, ma comunque divertendosi con DJ di caratura nazionali. Come sarà articolata la serata? Quindi la serata inizia alle 20 con una trasmissione radiofonica dove si racconteranno tutte le fasi salienti del 2016. Dalle 20 alle 21 e 30, quindi programma musicale su due emittenti, su Radio Gela Express, in diretta e su Radio Vittoria Express. Alle 21 e 30 si esibirà il coro della scuola Armonius, con i ragazzi che canteranno tutti i brani naturalmente a tema. Alle 22 e 30 è prevista già l'esibizione di Pippo Franco che farà i suoi sketch e poi a mezzanotte insieme a Mauro Miclini di Radio DJ, Pippo Franco, Mauro Miclini e tutte le organizzazioni, il sindaco naturalmente di Gela, faremo il countdown per dare il benvenuto al 2017. Dopodiché Mauro Miclini continuerà con la musica da discoteca, musica commerciale naturalmente, fino all'1 e 30 circa. Dopo l'1 e 30 si esibirà invece il nostro concittadino dei Typical, Vincenzo Callea e a seguire ci sarà l'esibizione anche come DJ di Dario Melodia. Quindi noi prevediamo che la serata si concluderà intorno alle 4 del mattino, quindi saranno esattamente 8 ore di spettacolo. Appuntamento dove, a che ora con lo start e un motivo per venirvi a trovare? L'appuntamento è in Piazza Salandra, come diceva Canzi Gaetano, la serata inizierà proprio alle 20 con l'esibizione di questi 12 bambini, di cui mi hanno anche parlato bene e quindi vi invito tutti a venire in Piazza Salandra per questo fantastico e meraviglioso Capodanno.